Ehi ha ragazzi, bentornati e bentornati sul mio canale, io sono Magnus Nella partita precedente il video non l'ho caricato perché magari dopo subitissimo il nostro amico si è riritirato Era un pareggio, fortunatamente non ce l'ha contata come partita Per cui andiamo avanti e troviamo un nuovo avversario Ok, avversario nuovo trovato, non sembra forte Però a volte ci capita sempre di beccare giocatori che non sono... Vedo molte scoltre maglie inglesi, no vabbè Comunque vabbè, diciamo che dovrebbe essere molto la nostra portata però non ci esaltiamo troppo Va bene, quindi Albiol ha aggiunto le 50 presenze, credo la facciamo capitano, no? Dopo gli... se vinciamo gli regaliamo una torta, ecco qua, già primo passaggio sbagliato Quindi proprio per questo gli è saltato la fetta sulla torta praticamente Albiol, non gli diamo più niente Ce la diamo subito a Borca Valero Ecco qua Dai, dai, 1-2, 1-2, 1-2 Vai, dammela Ok, vai Porca miseria, iniziamo subito con lo spreco Mettiamo un bel calcio d'angolo che Vidic ci fa un bellissimo stacco di testa Ah, che peccato Peccato che era centrale Vai Vidic, questa volta Bello... ah, no, queste... Uh, uh Dai, dai, dai Dai e vai, dai e vai, dai Ma no! Gonzalo, ma non mi fare queste cose Uh, dove sta? Ma non ci sta Gervinio Gervinio che fa? Metti in mezzo Questo sì che è un cross di merda Che sembra... Aver capito... Tutto cazzo, Amsic Non si può fare questo, non ti può fare questo Ma arriva fuori gioco Mamma mia che parata, mamma mia che parata Attenzione Ok, dai No Eh no, ma dai Ma che cazzo Lo fai, ma porca miseria Ma che cavolo, guarda là Sì, sì Ok, secondo tempo Noi non molliamo Mai Uh, vai, 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 vai Fatti perdonare Eh, vabbè, questo è rigorissimo però, eh Ok Vai, Gonzalo Ok, andiamo 1-0 1-1, scusate Ok Centralissima però Proprio il portiere La telecomandata Ah, è uscito da fuori dai pali Ragazzi, non c'è nessuno in difesa Ma che cazzo fa E' una male che è uscita Vai, 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 aspetta Vai che buona, vai che buona Metti in mezzo veloce Eh, cavolo Ok, ridalla, ridalla in mezzo Mamma mia, che lentezza, che lentezza, che lentezza E va, è altra punizione E' cartellino giallo, ebbè Vediamo se riusciamo così a fare una bella botta Vediamo un po' Ah, troppo centrale Troppo centrale Stiamo conquistando troppe punzioni Aia Cazzo No, no No, no Ah, ah Ti sei fatto fregare come un pivellino Oh, bellissimo Bravissimo Complimenti Eh, eh, ti pareva E' normale Lo sapevamo che dovevamo aspettare che segnava, eh E' normale, guarda lì Vediamo un pochettino Se riusciamo Ok Ok Almeno siamo riusciti a pareggiare, dai Ok Andiamo là dentro Alla dentro Tira Porca misera, ma che Tiro di merda che hai fatto Tira, tira Ma no, centrale Ma come si fa a tirare così centrale, dai Vai, vai E vai Ok Tira Tira, tira Ma non tirano mai Perché Ma perché Ma perché Non tirano mai Non tirano mai Pareggio Ma che ci va un po' stretto Obiettivamente Potevamo fare molto Ma molto Ma molto Meglio Sei partita Rimaste Ciavolo Ok ragazzi Spero come sempre Questo video vi sia piaciuto Non vi ringrazio sempre di commentare Mi ringrazio sempre di mettere mi piace Noi ci vediamo nel prossimo video E bye bye Ok